Buona e santa serata a tutti. L'angolino alle mie spalle è segno che sono tornato alla base, che sono tornato a casa, che sono tornato in comunità. Sono stati pochi giorni ma belli, ma intensi, condivisi con amici, incontri bellissimi, momenti di quiete, di respiro dell'anima. Mi piace chiamarlo così, respiro dell'anima, perché l'anima ha bisogno anche di respirare. Si conclude un altro giorno. Ringraziamo sempre il Signore per tutti i Suoi benefici, per ciò che ci dona, per quanto quotidianamente sperimentiamo, per i piccoli passi in avanti, se ci sono stati nel nostro cammino umano, spirituale, di crescita. Se c'è stato qualche falimento, se c'è stato qualche caduta, non perdiamoci d'animo, rialziamoci, chiediamo perdono al Signore. E proprio per questo, per non cadere mai dalla retta via, per non sviare mai dalla strada che il Signore ci ha tracciato, voglio consegnarvi la prima strofa del Salmo 15, che fa così. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Nelle tue mani è la mia vita. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Ecco, diciamogliolo insieme un'altra volta. Nelle tue mani è la mia vita. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. E ora preghiamo e accogliamo la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Mandiamo un saluto alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E l'odiamo la Santissima Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora con umiltà accogliamo la Santa Benedizione. Il Signore sia con voi. vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi abbraccio tutti, vi porto nel cuore e nella preghiera e vi mando un bacio fraterno. Buonanotte e a domani.